Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video-vlog! Oggi siamo tornati con un video-vlog al Comic-Con! Allora, quest'anno come potete notare non sono messina da Pocahontas, ma mi sono messina di Hermione, della saga di Harry Potter. E ho i capelli tutti frissi come ce l'aveva lei, la cravatta, tutta la tunica con lo stemma e sotto le scarpine. Mi piace davvero tanto, qua c'è anche il cappello, però il cappuccolo non si vede tanto. Non so come mi sono fatti capire, ci assomiglio proprio tantissimo, almeno secondo me. Questo è il secondo anno che andiamo al Comic-Con e che dire non perdiamoci in chiacchiere e andiamo al Comic-Con! Vivermione è il Comic-Con! Allora, siamo arrivati al Comic-Con, c'è tantissima gente, c'era una fila assurda, qui c'è Lilo. Ciao gente! E che dire? E che dire? A fra poco! Siamo vicino a un castello che può sembrare il nostro castello di Hogwarts, dove ci stiamo facendo qualche foto, perché qua è più bella, che c'è il lago, il castello, è tutto davvero bello, dove ci siamo fatti anche qualche foto con qualche personaggio, Dragon Ball per esempio, e poi magari oggi pomeriggio andiamo a vedere gli stand, poi mangiamo, non lo so, facciamo tante cose, mi sono dando la baguetta in testa e quindi non lo so. Ci vediamo fra poco? Sì, per forza, perché niente. Castello! E qui c'è una Lilo! Ehi Lilo! Fai vedere il tuo Stitch! Ciao! Sì, ciao! Ciao! E se ti è al comico, non venite a farvi le foto? Sì, al comico si vede per le foto, perché è bello! Mamma mia! Allora, ci siamo fatti un padiglione solo e abbiamo visto delle cose, perché poi ci siamo fatte le foto. Ho fatto un acquisto a tema Harry Potter ovviamente, che non vi farò vedere perché così vi farò un video a cui si è del Comic Con. Niente, sto con questa parte di Bianca è bellissima e non lo so, ci vediamo fra poco. Ciao! 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 Che facciamo ora? Che ora andiamo a spendere qualcosa di soldi. Sì, andiamo a spendere i soldi, perché al comico si compra tutte le cose belle! Sì, andiamo a spendere la sera. Che ci crisi? Che ci iscrivono le poco al giorno? E' una lub JAMES perché ci hanno mai chius Ora andiamo a comprare qualcosa da mangiucchiare perché abbiamo fame, come spuntino. Non qualcosa da mangiare, qualcosa di fresco perché non c'è sicura. Lei vuole qualcosa di... Eh, la mia collana è bellissima. L'ho presa anche io, però ho presa questa qua io. Lei è la chissata con il... Tu vuoi qualcosa di fresco? Io voglio qualcosa di fresco, di caldo, non lo so, voglio mangiare qualcosa. Ciao! Rieccomi! Allora, prima di iniziare a parlare, se no poi dite perché sei diversa? Allora, uno, ho il pigiama. Due, è il giorno dopo perché vi dico la verità, ieri, dopo il Comic Con, ero stanchissimissima. Ho fatto doccia, shampoo e c'erano da dormire. Infatti, shampoo e capelli lisci e non più ricifrise come Ermione. Comunque, io volevo dire, il video forse è durato un po' pochino, però perché si è scaricato il telefono. Anche se ora, alla fine del video, la notte davanti, vi metterò tante foto che ho fatto con manga, fumetti e tutto. Mi sono divertita davvero tantissimo, vorrei che il Comic Con durasse un'eternità. E niente, che bello! Ho visto tantissimi personaggi, mi sono divertita, ho fatto tanti acquisti, che vi farò vedere appunto i miei videoacquisti. E che dire, ragazzi, non voglio così, non so che dire al momento. Quindi, vi dico solo, lasciate tantissimi like, commentate, iscrivetevi per crescere sempre di più, per avere una famiglia super allargata e amorosa. E niente, che ci vediamo al prossimo video, che sarà un videoacquisti. Ciao! Ciao! Grazie a tutti. Grazie a tutti.